Si dice pronto a ricandidarsi il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi allo sprint finale dei 5 anni di mandato e i blocchi di partenza per le amministrative della prossima primavera. 5 anni difficili tra l'emergenza pandemica, la crisi socio-economica causata dalla guerra e una complessa opera di risanamento dei conti del comune. Penso sia anche una naturale prosecuzione delle attività che sono state svolte da cantieri conclusi, cantieri aperti e tutta la progettazione e pianificazione che è stata effettuata in questi anni con PNRR e CIS, parliamo di circa 150-200 milioni di euro. È evidente che un secondo mandato consentirebbe di ultimare i tanti progetti avviati. Penso che sia naturale ovviamente voler proseguire quest'azione perché nei 10 anni dà la possibilità effettivamente di mutare il volto nella città, renderla più attrattiva. I giochi tuttavia non sono ancora fatti, mentre nel centro-destra è tutto ancora in alto mare, il centro-sinistra attende, anzi spera, in una coalizione allargata al Movimento 5 Stelle. Penso che dobbiamo ripartire da questa maggioranza di centro-sinistra, allargandola anche a quelle forze politiche, penso al Movimento 5 Stelle, ma anche alle liste civiche che si vorranno formare. A breve ci sarà un'interlocuzione con i pentastellati, ma se fossero loro a voler imporre un proprio candidato sindaco, Rossi, che farà? Vediamo se ci sono le condizioni di confronto programmatico su questo percorso, poi ovviamente si fanno ragionamenti insieme.